Prima non l'hai fatto così, sei partito, toccato un filo davanti e l'hai più fatto un saltino, adesso invece vai lì e gli sbatti contro, non devi sbattergli contro, pensa di fare il movimento Fai il movimento come prima, quando sei arrivato lì hai schiacciato un pochino, saltino sulla moto e appoggi il davanti e scendi lento, tieni il dito sulla frizione, il dito, non cinque dita, fai il movimento giusto però Via! Ha aspettato troppo, l'hai picchiato qua il davanti, il davanti deve toccare qua Qua ti dico non va Ok, schiacci e morto È pelata lì eh, è pelata quando scendi eh Grazie 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 questo è peggio di quello tanto ti passa di sopra fermati su sei in terza sei minimo in terza come minimo prova a vedere no non è questo è la marcia che è una due eri in seconda ma sei imballata se sei fuori poi non hanno neanche bevuto è quello il problema è è solo lui che l'unico che fa che faceva così era come si chiama l'inglese che aveva due spalle così l'ho visto una destra menta fa una roba del genere eh schiaccia schiaccia giù le forcelle e schiacciarle giù tutte le forcelle oh li vedi che sei morto ma va non tocchi il davanti devi toccare il davanti vai a bere va apri la bottiglia e bevi un sorso che è meglio dopo lo fai a occhi chiusi è detto che rodo va va di mettere sotto un invito mette sotto un invito di